ciao a tutti tarta amici sono aldi stein benvenuti su tarta youtube tv è parecchio che non ci sentivamo che non ci vedevamo insomma perché un po per impegni vari un po sono stato maluccio un gruppo di influenza non mi andava di fare video ma ora sono ad orari più forti di prima speriamo di riuscire a farne tanti di seguito come vedete vogliamo fare uno speciale di natale di capo un anno insomma per le feste per augurarvi anzi ne approfitto per augurarvi un buon anno nuovo e buone feste passate a tutti allora sono stato a fine dicembre volevo mettere due tipologie di video questo quest'oggi dopo la intro prima vedrete un video appunto che riguarda la protezione civile vedete ai miei lati l'ultima uscita che abbiamo le ultime uscita che abbiamo fatto a fine dicembre poi siamo tornati anche all'inizio di gennaio il 7 mi sembra al presepe vivente di san vito per chi non posso della zona san vito è una frazione di quilitano e noi siamo andati lì come addetti alla sicurezza tra virgolette diciamo per il nostro compito vogliare sulla sicurezza della gente che visitava il presepe che si trovava proprio a fianco alla chiesa di san vito l'invito a visitarlo nei prossimi anni è proprio accanto alla chiesa lo fa è piccolino ma è molto carino devo dire la verità molto carino poi a seguire il 6 gennaio il 5 e 6 gennaio qui a taranto fanno intanto cambiano una via quest'anno in via alto adige il mercatino della befana dove appunto si prendono tutti i dolci vedrete un sacco di dolci calze da stare male dipende di abita solamente a guardare mamma mia e io sono andato lì ho potuto portarvi con me per l'appunto ho fatto un video per farlo vedere a chi non è di taranto a chi è di taranto e magari sta fuori può vedere può vedere nel video mio beh detto questo vi auguro una buona visione vi invito sempre non fare un altro quindi ve lo dico adesso vi invito a seguirmi sui miei contatti che vedete qua sopra i miei social e vale sempre il iscritto ricambio quindi iscrivetevi al mio canale iscrivetevi al mio canale che vi siete iscriviti in buco i maledetti iscrivetevi al mio canale e iscrivetevi sotto iscritto che mi iscriverò al vostro canale così che scegli insieme per l'appunto che altro dirvi ragazzuoli niente tutto qui vi auguro una buona visione e ci vediamo fino a presto al prossimo video ciao è una sorpresa è è l'improvviso, te le lascio per venerdì pomeriggio e poi l'improvviso me le faccio a prendere l'unica di cucina. Grazie a tutti. 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 a tutti.